Ora voltiamo pagina, l'automobile non è soltanto un mezzo di trasporto, l'automobile significa cultura, significa emozioni e significa anche lavoro nel sociale, oltre a dare naturalmente tanti posti di lavoro a numerose persone in diversi settori. Parlando di sociale, Citro in Italia, sempre presente quando c'è da dare una mano, ha dato una mano al comune di Medolla, purtroppo il comune di Medolla ha subito molti danni con il terremoto dell'anno scorso e Citro in ha consegnato un'autovettura al comune di Medolla, la vediamo tutta questa consegna nel prossimo servizio. Ci siamo detti che cosa potevamo fare per dare una mano a una zona particolarmente colpita del terremoto e insieme all'associazione dei concessionari italiani e al concessionario di zona, proprio di Modena, che opera qui nel territorio, abbiamo identificato un'esigenza forte di un comune particolarmente toccato dalla scossa tellurica e abbiamo deciso di offrire questa vettura come mezzo di servizio per le attività del comune. Per noi è molto importante perché è un segno che stiamo ripartendo, che stiamo ricostruendo e veramente a noi riempie il cuore quando riceviamo segni di questo tipo, ne abbiamo ricevuti tanti, ma questo ci ricorderà che qualcuno ci è stato vicino veramente nei momenti di difficoltà e noi questo non lo dimenticheremo e ringraziamo veramente con tutto il cuore. con altre novità del mondo dei motori e vedremo un bel blocco di sport con il Peugeot e poi la consueta prova su strada con la Hyundai i40 Berlin.